Bravissimo della faccenda quando Don Bosco è stato benificato nel 1229 hanno acquistato una stagione a milione ma non sapevano che Don Bosco fosse nato qui pensavano che fosse nato nella casetta che voi vedrete tra poco guidati da Faginello questa esperienza con altri ragazzi che si fisticiavano con l'altro e poi è apparso la Madonna e Gesù quindi hanno fatto questo cartaggolo questo filone insomma per ricordare questo cartaggolo attraverso anche le immagini i luoghi che noi vediamo e questo è un po' qui è male questa chiesa qua è stata fatta nel centenario è della nascita di Don Bosco e quindi è un santuario che ma gli eserfice i cileni hanno votato No, noi non siamo arrivati stiamo avendo fatto il giro adesso andiamo questi giovani qua ma dai che giovani in fila però però non ho le più speranze che cambino cioè quando e quando è così e così ah no io non ho scelto ma non sono capisciato al mezzo della strada allora voleva più siamo un regalo del signore per te vedi degli angeli mandati da Dio caduti dal cielo per il troppo peso certo grazie arrivederci grazie che tra le altre per farla breve lo salvò anche dalla bocciatura perché come si può trovare una ragazza a scuola fa sei copi da una sua amica Lucia Maggia che abitava in casa c'entrava sul posto però la casa è proprio un pezzo qua dietro dietro l'angolo fatto dall'ebreo Giona sua suocera era la cugina della Maggia quello che lui aveva già avuto idea già il principio che l'ha già fondato la società dei grie con i suoi amici è usato proprio quella scritta è rimasto al convinto questo loco a passo e oltre a essere insegnati in un bosco maestro spirituale anche facevo un vestito che è con... ma tu non hai birra da metro? non l'ho mai sentito eh birra al metro insieme dici dai cosa ci consiglia? un po' di bambini un metro di birra un metro di birra quale? di unico qua Luca da Jaguri a soffio soffio vai soffio grande discorso 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 bravo vai ok ok questo è il punto oh leo ok ok questa è una pagina di fotocomposizione ma non dei tempi di Don Bosco perché è già una cosa più elaborata perché sono striscette vedete non è la singola lettera ma sono le striscette quindi di piombo quelle piccole e di legno quelle grandi tra l'altro per questo peso ci sono questi piastri di ghisa eh quindi i lavori faceva molto bene con soffitto molto alto perché non c'erano gli spiattori dell'aria ma pensate anche tutta l'esperienza lavorativa che ha avuto lui a Chieri la storia di nuovo come ha anche già imparato la macchina poi la mitica macchina da scrivere dove tanti di noi hanno imparato a scrivere la macchina beh tanti di noi qualcuno di noi ha imparato a scrivere la macchina eh io quando ero piccolo c'era la storia bello a eh eh sì grazie a tutti in questo caso facciamo finta che c'è la nostra pompa bvm lui mi chiede temperatura e progetto e massima immagata non mi fa più impostare saluta gli amici di est perché dopo dobbiamo vedere a settembre cosa che abbiamo fatto durante i corsi eh in teatro a tutti i colleghi facciamo ciao ciao io ho la possibilità di avere in quanto c'è tutto però secondo me se ne sono collegate in data ok colazione solida e temperatura colazione oraria educazione standard ecco qua adesso te le fuori te vedi non più vito adesso te la temperatura esterna non più pressione possiamo svuotare l'impianto toccando per equipamente anche l'alta temperatura abbiamo riparato la punta abbiamo riparato la pedra e sistemato la punta grazie mille abbiamo già sistemato grazie mille così possiamo cliccare il scambiatore ecco guardi secondo esercizio a dopo grazie mille Tranne pure gambe Un'ottima macchina da split E poi non sono un po' più split, sono macchine un po' più grosse Eccolo qua, questo motore Sanio V6 viene che va mantenuta come un motore Quindi cambio olio, cambio filtri, taglianti, valvole Sembrava che scadevi da un giustatore Si ricordi Si, si Quelli di là che si attacchi quelli Quelle cose appobbite attaccare di là Di Dio, di te E poi non è pescato, no E qui se le offensite Un gas E qui c'è Quanto mentre E' una Degeneratore che è da 200kW Tiene su solo le aree che possono restare esattamente Quindi c'è nel frigo C'è nel frigo cucina alle primarie dei clienti, le luci di emergenza, le linee preferenziali, eccetera, esattamente. E' vero che qui sono tutto. Diciamo che la media, siamo un minimo, tutto spento, tutto fermo, tutto. 130 kilowatt. L'acqua che arriva dall'acquedotto viene stoccata qui e da qui parte. Ma non è da. Sei location? Sei nostro. Puoi vedere anche i cazzi travi che traballano. E quindi la visione del saluto. Ricorda che quel duvo lì va. Però lui, se fuori romani, ci abbandona, nessuno sa più niente. Quindi c'è questa opera un po' di passaggio, di testimone, chiamiamolo così. Vedi che anche le etichette non sono così chiare. Andata CFP. Meccanico, grafico, elettrico. Ecco, in realtà questo qua è un po' di prese d'aria lì. Il calore dalla batteria viene asportato tramite l'azionamento di un mega galattico ventilatore. Queste cose proprio, insomma, i limiti del museo. Questa sostituisce la macchina. Gira. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.